E senza ombra di dubbio una delle sagre, se non la sagra più antica e rinomata d'Abruzzo. Stiamo parlando della sagra della porchetta italica che si svolgerà come da tradizione a Campli da domani fino a domenica 24 agosto. Una sagra che quest'anno festeggerà il suo 43esimo compleanno e omaggerà soprattutto il cinquantenario della manifestazione, nata nel 1964. Per la prestigiosa occasione ci saranno 10 maestri porchettai locali e il vincitore sarà scelto da giurie, costituite da giornalisti, esperti di gastronomia, esperti enologi, ristoratori, cuochi d'eccellenza più una giuria popolare. Un modo quindi per tramandare alle nuove generazioni l'antica arte culinaria dei porchettai, tutto a vantaggio del consumatore. E quest'anno il comune ha puntato forte anche sull'aspetto culturale, con una forte differenziazione musicale, visite guidate al Museo Archeologico Nazionale direttamente collegato alla vicina necropoli di Campovalano e soprattutto l'innovazione tecnologica del wifi gratuito per la connessione ad internet. 43esima edizione, 50 anni di storia, quindi un evento importantissimo, io ritengo che sia il fiore dell'occhiello per Campli ma per l'intera provincia di Teramo. Anche quest'anno si può degustare la tipica porchetta camplese, secondo la tradizionale ricetta, ci sarà appunto la gara tra i vari porchettai, ci saranno quattro giurie che valuteranno la porchetta più buona che poi sarà premiata. Logicamente ha un carattere anche culturale questa sagra perché è possibile in questi giorni, oltre ad assistere a degli eventi e degli intrattenimenti tipo concerto e spettacolo, ma soprattutto visitare gli importanti monumenti che abbiamo a Campi, soprattutto la Scala Santa, il Duomo, Palazzo Farnese e Piazza Vittorio Emanuele. Tra l'altro ci sarà una grande novità quest'anno, un'iniziativa voluta fortemente da me e dalla nuova amministrazione, da domani a Piazza Vittorio Emanuele ci sarà il Wi-Fi gratuito e quindi tutti i turisti che verranno potranno navigare gratuitamente. Quindi un servizio tecnologico in più. Sì, ci tenevamo molto, questa cosa mancava e per l'occasione abbiamo fatto di tutto per far sì che si navighi in maniera gratuita. Voglio ringraziare anche i dipendenti comunali che hanno fatto di tutto per attivare questo servizio.